Preghiera del mattino Mi chiedo quando gli uomini politici si metteranno d'accordo perché ci sia finalmente la pace sulla terra. Mi chiedo quando gli strateghi militari compiranno il disarmo definitivo perché ci sia finalmente la pace sulla terra. Mi chiedo quando le giostre di potere in seno alla nostra Chiesa cesseranno di essere necessarie perché ci sia finalmente la pace sulla terra. Mi chiedo, oh sì mi chiedo, quando concluderò infine la pace con me stesso.